fragola nasce nel 1961 da gino fragola 35 anni suo fratello nello 29 negli anni si sviluppa oggi siamo alla terza generazione lavoriamo in italia all'estero siamo ben riconosciuti nel settore mancimistico e minerario fragola inizia una partnership con rossi dagli inizi perché lo stesso giglio rossi veniva a trattare riduttori con gino fragola siamo nei primi anni 60 da allora la partnership è continuata per fragola l'affidabilità è sempre stata una priorità con rossi abbiamo trovato il giusto partner oggi dopo 63 anni stiamo continuando perché ogni giorno ci interfacciamo con i tecnici rossi quindi fragola sta crescendo insieme a rossi e stiamo portando avanti i progetti importanti rossi è in diretto contatto con il nostro ufficio tecnico per la scelta di posizioni di montaggio dei riduttori ibride cioè quelle forme che non rientrano nelle classiche da catalogo di 6 di 3 o di 8 quindi abbiamo molto spesso nell'ufficio tecnico problematiche di questo tipo perché dobbiamo mettere riduttori con inclinazioni diverse e quindi l'ufficio tecnico della rossi ci supporta in questo dandoci tempestivamente delle soluzioni è una grande offerta e soprattutto flessibilità perché molto spesso siamo costretti a variare la tipologia di riduttore utilizzato normalmente nel quotidiano e quindi sappiamo che con la rossi possiamo optare nella scelta di altre forme costruttive altre tipologie di riduttori e ci offrono lo stesso tipo di accoppiamento quindi non siamo costretti a variare troppo la nostra macchina se dovessi definire rossi in tre parole sceglierei qualità del prodotto affidabilità e assistenza presenza costante